Il quinto posto di Melbourne è stato un mezzo miracolo, frutto del suo genio al volante. Aspettarsi l'esplua a Sepang sarebbe poco realistico. Fernando Alonso tiene i piedi per terra e nel caldo soffocante di Kuala Lumpur prepara la seconda tappa di un mondiale che per la Ferrari si prospetta ancora all'inseguimento. Il pilota spagnolo, capace di scalare sette posizioni in griglia dopo qualifiche difficili in Australia, è consapevole che domenica nel GP della Malesia aspettarsi di più è difficile, perché la monoposto che scedrà in pista sarà fotocopia di quella vista all'esordio. Correremo in difesa anche in Malesia, non potrebbe essere altrimenti, dice il ferrarista, visto che la F2012 è praticamente identica a quella che abbiamo utilizzato in Australia. Dovremmo cercare di adattarla al meglio, sapendo che ci sarà da soffrire. Senza parlare dell'incognita Felipe Massa, che in un debutto peggiore di quello australiano non se lo poteva augurare. Il team cercherà di correre ai ripari, anche con la sostituzione del telaio, per salvare il soldato Felipe, anche se per il brasiliano la stagione è partita in salita. Alonso intanto pensa alla corsa malese, difficile anche sul piano climatico. Due i punti su cui dovremo lavorare con grande attenzione, sottolinea, trovare il giusto compromesso sul carico aerodinamico e il degrado degli pneumatici. A Sepang ci sono due veri rettilinei molto lunghi e un deficit di velocità di punta si paga più a caro prezzo rispetto a Melbourne, dove i due rettifili dove si poteva usare il DRS erano abbastanza corti. Vedremo poi, conclude Alonso, come si comporteranno gli pneumatici Pirelli con temperature così elevate.